Un'altra cosa, non serve fare dei cerchi perfetti, questa è una cosa, vedi guarda, prendi la matita, tracci, questo si chiama disegno a linea ripassata, ha a che vedere con la probabilità che più o meno ci sia qui la forma, tanto io so che quando disegnerò dal vero, aggiusterò tutto col chiaroscuro, compresi i confini. Ok, detto questo facciamo finta che sia solo girata in questo senso, quindi l'equatore rimane fermo, se è girato io ho questa cosa, ci siamo? A questo punto so che la testa guarda in questa direzione, se guardasse anche in alto poniamo, per capirci, neanche l'equatore potrebbe essere dritto.